Dopo la scossa forte che ha fatto tremare la terra dei campi flegrei con un'intensità di 3.8 della scala Richter, si riaccende la discussione sui piani di evacuazione e sulle vie di fuga. Nel 2015 una scossa di magnitudo 2.5 mandò in tilt il piano di fuga dalla zona alta di Pozzuoli, con migliaia di genitori impauriti che intesarono la zona di collegamento con Bagnoli e Agnano per prelevare da scuola i propri figli. Si decise allora di rivedere e aggiornare un piano di evacuazione dalla zona rossa in caso di emergenza, ma dopo otto anni ci sono ancora cantiere aperti, gallerie chiuse e strade strette. Nonostante l'aggiornamento dei piani nei comuni di Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Napoli e Giuliano, le problematiche sono ancora tante. Il piano rischio vulcanico Campi-Flegrei, che si estende anche alle altre calamità naturali che necessiterebbero una fuga entro 72 ore dei 350.000 residenti dell'intera zona, prevede una serie di aree di incontro in cui radunare la popolazione da evacuare nelle regioni gemellati e l'elenco dei gate. I cancelli di accesso alla viabilità a scorrimento veloce come tangenziale, autostrade e strade statali. Il supertunnel da due chilometri, investimento pubblico da 150 milioni di euro, tra fondi europei e fondi del Ministero delle Infrastrutture, dall'aprile 2021 che collega l'innesto della tangenziale direttamente con il porto di Pozzuoli, è chiuso al traffico. Malgrado sia ultimato e perfino acceso l'impianto interno di illuminazione.